Ritorna la vittoria all'Accademia a Borgomanero e lo fa con una prova convincente nonostante le tantissime assenze contro la Synergy Verbania. 2-0 il risultato in favore della squadra di Mr. Roberto Bonan che già dopo appena 30 secondi prova a sfiorare la marcatura. Cross dalla destra di Paolo Poletti per EGS in piena area di rigore, la sua deviazione è di poco a lato. Al diciassettesimo ancora pericolosa l'Accademia, potente tiro cross di Conchedda dalla sinistra Galli non si fa sorprendere sul suo palo e mette in angolo. Al ventitreesimo altra occasione per l'Accademia, bellissima giocata da parte di Valsesia che si libera due volte di Bazzane una volta con un colpo di tacco, poi trova lo spazio dal limite per un bel tiro alto di un soffio sulla traversa. Il meritato vantaggio arriva tre minuti dopo al ventiseiesimo, Valsesia mette in movimento con Conchedda sulla destra, all'esterno salta di netto pingitore e mette in mezzo un bel pallone per Paolo Poletti. Bella la girata di prima intenzione, nulla da fare per Galli. Prima del riposo il raddoppio al quarantaduesimo, bella azione in verticale dell'Accademia, guidetti per Lorenzo Antognoli che serve sulla destra De Bay, cross in mezzo ribattuto, recupera De Bay che scarica su Lorenzo Antognoli, controllo al limite, tiro che si insacca all'angolino. Nella ripresa la reazione della Sinergy non c'è, è anzi l'Accademia che dopo ancora un minuto prova a trovare lo spazio per triplicare le marcature, ci prova ancora una volta Valsesia dal limite, palla alta di poco. Al quattordicesimo ancora occasione rosso-blu, bella imbeccata di Valsesia per Conchedda, ottimo controllo che porta a concludere dal limite, gran diagonale, ottima risposta di Fabriani che in tuffo mette in angolo. La Sinergy si rende pericolosa al trentaduesimo, palla persa a centrocampo da parte dell'Accademia, Ferrari serve il neoentrato, Borioli, prima conclusione respinta, la seconda è invece alta. La partita si chiude con una buona occasione per l'Accademia Borgomanero, Ardizzoia tiene un campo in un pallone difficile, lo rimette in mezzo, lo raccoglie Paolo Poletti, conclusione potente ma centrale, Fabriani neutralizza in due tempi. Una vittoria che dà ossigeno alla squadra di Roberto Bonan che potrà sfruttare così al meglio la sosta a Pasquale e recuperare qualche effettivo.